Musica Possiamo definire Ori dello Sport anche una poliedricità di ambassador. Ne è testimonianza il fatto che l'ospite di questo nostro spazio oggi è Riccardo Meneghini. Parliamo di danza contemporanea in compagnia del vice sindaco e assessore allo sport Cristian Vellar a cui chiedo proprio come mai la danza contemporanea all'interno di Ori dello Sport. Sì beh certamente abbiamo voluto dare anche un'interpretazione diversa di quello che era poi lo scopo di questa manifestazione. In questi giorni abbiamo nei vari talk discusso molto sull'importanza delle manifestazioni in chiave agonistica, in chiave di messaggio sociale, di valore, di principi e quant'altro. Oggi con la danza appunto vogliamo dare un valore aggiunto, quello che è il gesto atletico. Il gesto atletico che può diventare movimento, può essere una fonte di emozione, dare dei messaggi e arricchirlo in una forma artistica. Per cui abbiamo voluto inserire la danza proprio per dare questo spessore in più a un evento che già a 360 gradi sta coinvolgendo vari aspetti del movimento. Cristian direi che mai come in questa occasione hai centrato il tuo commento perché l'ospite del nostro talk di oggi è Riccardo Meneghini. Quindi parliamo di danza contemporanea ma dobbiamo pensare che la sua vita è iniziata come giudocca agonista. È anche diplomato ISEF, poi a un certo punto della vita sceglie la danza contemporanea e direi che diventa una scelta anche molto importante perché le sue collaborazioni hanno raggiunto anche livelli internazionali molto alti. Ecco Riccardo, qual è stato il momento in cui da giudocca non dilettante ma addirittura agonista hai scelto la danza contemporanea? E quindi passare da sport al 100% a un qualcosa di sicuramente sportivo ma con un forte connotato artistico? È stata sinceramente un'occasione che mi si è presentata e quindi quando è arrivata la danza e ho cominciato a intraprendere questo tipo di percorso è stato immediato questo tipo di sensazione. Ecco, come hai accolto quindi la richiesta di essere inserito in una realtà come ori dello sport? Beh sinceramente con entusiasmo dato che comunque io sono una persona che è nata con lo sport. Ho fatto judo come hai detto tu, calcio, sono un assistente bagnanti, ho lavorato sui laghi trentini e quindi sono sempre stato coinvolto in attività fisica. E quindi fammi capire quali sono state le tue sensazioni nel momento in cui ti hanno chiesto di partecipare a ori dello sport in qualità di ambassador? Beh entusiasmo direi perché comunque lo sport, il movimento è qualcosa che mi ha accompagnato da quando sono nato. E soprattutto anche le montagne che avvolgono questo vento, io sono trentino di nascita, quindi diciamo che secondo me le montagne mi hanno portato anche a questa fisicità e a questo desiderio di apertura e anche di sfida. Durante la tua carriera hai sviluppato un po' una visione anche originale, nuova del concetto di movimento, poi hai pensato un progetto che trovo molto interessante e che vorrei che tu ci illustrassi, che si chiama Make a Wish, dove, quindi esprimi un desiderio, dove vai a coinvolgere il pubblico in qualcosa di interattivo, di attivo, di spontaneo, di che cosa? Sì per me era interessante ed importante rendere il pubblico partecipe durante uno spettacolo, non solo passivo, qualcuno che viene e guarda, si siede, ma qualcuno che partecipa e soprattutto dopo questi due anni di pandemia mi sembrava proprio potente questa idea che le persone si incontrassero e insieme potessero partecipare a creare qualcosa, quindi Make a Wish, chiedo alle persone di portare un desiderio, le porto in un percorso che avviene inizialmente con una camminata, dopo guido le persone con un piccolo percorso di sensazioni, di corporee e vado poi a raccogliere i desideri di queste persone e li faccio danzare, li faccio danzare e poi invito le persone a danzare lo stesso nello spazio con me, così da creare una sorta di evento, di rituale che sia tutto tondo, che parte da un'intenzione e da un'azione. Cristian, abbiamo sentito delle cose molto interessanti, anche che guardano a delle evoluzioni possibili di questo fenomeno della danza contemporanea, danza che è forma d'arte, ma anche come abbiamo sentito di comunicazione, e l'amministrazione come si sta ponendo rispetto a questa attività? Quali sono le iniziative che avete in cantiere? Beh, innanzitutto l'obiettivo era proprio quello in questa manifestazione, coinvolgere la danza proprio per lanciare questo messaggio che abbiamo appena sentito dall'intervista. Ovviamente abbiamo già spiegato le molte iniziative che stiamo portando avanti come amministrazione che abbiamo già sul tavolo, alcune saranno sportive, culturali, turistiche, alcune di queste invece vedranno per l'appunto la danza come mezzo di comunicazione. Vogliamo infatti valorizzare il nostro territorio che per alcuni aspetti è magico e dà delle sensazioni che in altre maniere sono difficili da spiegare. Quindi una delle prossime iniziative ad esempio che stiamo già organizzando tratterà appunto la danza in connubio con la musica, musica classica, all'interno di un contesto naturale che è proprio adatto e si presta benissimo per questa iniziativa. Lo scopo è sfruttare l'effetto catartico appunto della danza, quale espressione, quale coinvolgimento come appena detto anche il nostro ospite e della musica proprio per trasmettere quel valore aggiunto del nostro territorio che molto spesso abbiamo difficoltà a trasmettere.